A salute medicina con il dottor Cristian Bertone, medico ortopedico. Buonasera. Benvenuto. E il dottor Alfredo Marino, medico ortobonzista. Buonasera. Buonasera, benvenuti a voi. Ecco, dottor Bertone, una domanda che le faccio così molto direttamente. Che cosa ha la spinta ad abbandonare l'ortopenia e ad avvicinarsi a questa nuova branca? Se ci vuole un po' raccontare, perché sono molto curioso di sapere. Grazie per la domanda, molto interessante, in quanto, a dirla tutta, non ho mai abbandonato l'ortopedia, non rinnego per niente l'ortopedia, anzi, sono qua a elogiare l'ortopedia. Diciamo che in un rutinario pomeriggio della mia attività professionale ho incontrato un bambino, accompagnato i genitori, al quale avevo proposto un intervento di correzione di un piede pronato, retrocalcaneo o valgo, o che dir si voglia. Se abbiamo la possibilità di trasmettere l'immagine, si può ben vedere come un caso simile a quello che sto descrivendo sia stato trattato con la posturologia. La scoperta che una patologia storicamente ortopedica, meccanica, se vogliamo usare questo termine, potesse essere trattata in modo meno cruento e molto più agevole per il piccolo paziente, ha un po' attirato la mia attenzione e lentamente ho cominciato ad interessarmi a questa disciplina. Durante il percorso di interessamento ho avuto la fortuna di conoscere il dottor Marino che sta in questo momento alla mia destra. Da là è nato un rapporto di reciproca collaborazione, anche se devo dire che se io ho dato qualcosa al dottor Marino, lui mi ha dato tutto e quindi sono qua oltre che in sua compagnia anche per ringraziarlo pubblicamente. Mi fermerei per passare la parola al dottor Marino e alla sua storia. Benissimo. Allora, dottor Marino, come nasce la sua attività di posturologo? Perché vorrei che poi in un certo senso avessimo la possibilità di spiegare che cos'è questa vostra esperienza professionale. Certo, ahimè, la data pesa perché parliamo di 35 anni fa. Subdoravo nella mia attività di ortodontista che quello che si fa normalmente per radizzare i denti perché di questo si tratta in ortodonzia, ci fosse qualcosa di non completamente chiaro e ho cercato una pista che mi desse delle risposte. E questa pista è stata, è stato l'avvicinamento a una disciplina che all'epoca era una disciplina nuova che si chiamava, chiamata posturologia. Quindi ho incominciato a interessarmi a questo tipo di terapia frequentando il dottor Pierre-Marie Gaget che vedete nella diapositiva il quale è stato il primo a formalizzare questa nuova disciplina su dei malati e il dottor Gaget è un medico del lavoro, su dei malati commotivi. Essendo un medico del lavoro lui lavorava con degli operai che dovevano andare nelle impalcature e che potevano avere degli incidenti durante questo lavoro nell'impalcatura e molto spesso venivano ricoverati in ospedale per questi problemi, per questi traumi, soprattutto traumi cranici. E poi lui doveva, una volta che erano usciti dall'ospedale, che quindi tutta la medicina tradizionale diceva che questi pazienti erano guariti, lui doveva certificare che potevano ritornare a lavorare sull'impalcatura. Ma lui da bravo medico, non soltanto come posso essere io, ma come può essere anche il dottor Berton, non limitandoci semplicemente a quello che ci hanno insegnato all'università, lui ha incominciato a porsi delle domande perché si rendeva conto che questi soggetti, questi extraumatizzati cranici, presentavano una serie di sintomi che uno impedivano al dottor Gaget di certificare che potevano di nuovo tornare a lavorare in altezza perché molti presentavano una instabilità in generale. E poi soprattutto lui si è reso conto che questi soggetti presentavano un'attitudine posturale molto particolare. ed è per quello che lui ha pensato di chiamare questa disciplina posturologia. Ma purtroppo il termine posturologia, come tutti i termini, pesa tanto. E utilizzare il termine posturologia, se da un lato è giustificato dal fatto che appunto Gaget aveva visto che queste persone che avevano questa instabilità avevano anche dei difetti posturali, purtroppo è stata mal copiata, mal seguita, mal compresa un pochino dappertutto e questo ancora adesso crea grossa e grossa confusione. Gaget capisce per primo e subito che questo atteggiamento posturale del paziente è legato a un'attività tonica muscolare particolare. Cioè praticamente a una tensione muscolare particolare, poi il dottor Roberto spiegherà nel dettaglio. Dall'altra parte dell'Europa, in Portogallo, c'è un medico, un medico fisiata, che si chiama Enrique Martis da Cugna, che vede i suoi pazienti, anche lui dal punto di vista posturale, ma lui chiaramente dice che un paziente posturale è un paziente che ha questa postura particolare perché la sua informazione, la sua percezione della sua posizione nello spazio, la percezione del suo corpo nello spazio è sbagliata. Lui crede che sia corretta, ma in realtà è sbagliata. E questo errore di valutazione è quello che crea il disequilibrio e quindi eventualmente la sintomatologia. Tornando al sottoscritto, io non ho fatto altro che copiare dei miei maestri, che sono stati Gaget e da Cugna. La pista che stavo seguendo, che stavo cercando, era una pista interessante. Quindi in tutti questi 35 anni non ho fatto altro che svilupparla sempre di più e sono arrivato ad avere una certa preparazione per poter dire che effettivamente la posturologia, ancora detta posturologia, è qualcosa che merita di essere studiata e investigata. Ma e quindi Dottor Bertone, entriamo in effetti, Dottor Marino ci ha dato uno spunto interessante. Ecco, però ci vuole spiegare più semplicemente quindi come funziona, perché in effetti i termini che ha usato Dottor Marino sono anche molto tecnici. In particolare la propriocezione e il tono muscolare. Quindi entriamo più in profondità, cerchiamo di spiegare ai nostri telespettatori quali sono le problematiche reali. Martin D'Acugna e Pierre-Marie Gaget descrivevano di fatto la stessa situazione posturale di squilibrio muscolare sotto due profili diversi. Gaget parlava di asimmetria del tono muscolare, D'Acugna parlava di propriocezione. Tuttavia non dobbiamo considerare che questi due parametri siano cose che non si appartengono, sono fortemente legati. La propriocezione regola il tono muscolare. Come potremmo definire il tono muscolare? Come la tensione minima a cui è sottoposto un muscolo, scusate, anche in condizioni di riposo e anche quella tensione minima che ci permette di stare in piedi. Pensiamo a quando siamo in posizione eretta, se non avessimo una minima tensione delle gambe e dei muscoli della schiena cadremmo a terra. Invece il cervello manda degli impulsi continui ai muscoli, sono degli impulsi che si chiamano effettori, in modo tale da stabilire un tono muscolare che sia pressoché costante e che mantenga la posizione eretta. Tono che cambia al variare dell'attività motoria. Se mi metto a camminare ho sempre un tono muscolare ma che risente delle variazioni del movimento. La propriocezione cosa fa? La propriocezione è quel apparato, non esiste un apparato anatomico della propriocezione ma è un insieme di organi di senso in cui entrano anche i classici cinque sensi che conosciamo, l'occhio, la vista, l'udito, l'olfatto, l'odorato, il gusto. Però accanto a questo ci sono anche tutte quelle informazioni non coscienti che arrivano al cervello che informano il cervello su quella che è la posizione del corpo nello spazio, su quella che è la posizione della testa rispetto al corpo. Adesso voglio citare un esempio proprio banale. Adesso proviamo a chiudere gli occhi e ad alzare la mano destra fino all'altezza della spalla. a occhi chiusi. Allora se io compio il movimento a occhi chiusi e arrivo all'altezza della spalla possiamo dire che mi trovo in una situazione di equilibrio. Ma se a occhi chiusi alzo la mano destra credendo di portarla all'altezza della spalla e la porto più in alto della spalla, qualcosa della mia propriocezione non è proprio in ordine e dovrebbe essere rivisto. Per fare un esempio un po' più articolato possiamo vedere l'immagine di Kobe Bryant che è ormai un pensionato cestista dell'NBA americano, fa parte della storia dello sport mondiale americano che sta compiendo un'azione di gioco. In questo momento sta afferrando la palla. Come fa a mettere in atto tutti quei meccanismi che gli permettano di correre in direzione della palla saltare al momento giusto per prendere la palla al momento giusto, per cadere a terra al momento giusto per poi eseguire un'azione di rincalzo per cercare il canestro. Ora, sembra facile da dirsi è un campione, d'accordo, ma se la sua propria sezione, se i meccanismi che regano la propria sezione dai sensori al cervello, poi spiegheremo nei dettagli, questo concetto che detto così mi sembra difficile, spiegheremo nei dettagli comunque anche Kobe Bryant ha bisogno di una regolazione sia del tono muscolare sia della propria sezione che sia in ordine. Benissimo. Ecco, Dottor Marino, abbiamo parlato quindi della perfezione della macchina umana, ma è sempre questa, la propria sezione è sempre perfetta come percezione anche rispetto all'esterno. Poi volevo anche chiederle se lo stress influisce, cioè è chiaro che noi siamo condizionati dalle percezioni, dai nostri sensi, però il cervello, come ha detto prima il Dottor Bertone, quindi comanda effettivamente questi sensi, quindi questo scambio di informazioni può essere influenzato anche dallo stress? Sì, sì, certamente, è quello che sia Gaget e sia Dacugna hanno chiamato un'aggressione posturale. Al giorno d'oggi sempre di più, teniamo conto che la posturgia è nata all'incirca negli anni 80, 1980, e l'aggressione posturale era molto, ma molto minore di adesso. Adesso l'aggressione posturale è diventata qualcosa di veramente drammatico. Pensiamo soltanto a tutte le ore che i bambini rimangono davanti ai videogiochi che creano una dipendenza assoluta e uno stress veramente enorme a livello psicofisico. Quindi, è giustissimo, è vero, lo stress è una delle cause di un problema posturale, ma non è soltanto questo, perché sappiamo con certezza che più o meno il 20% della popolazione è afflitta da un problema posturale di questo genere, è percettivo, allora è meglio, visto che abbiamo approfondito un pochino i termini, è che di questo 20%, probabilmente un 15% è genetico. E diciamo, lo sappiamo che è genetico perché quando viene per esempio da me un bambino, un ragazzino, e interroghiamo anche i genitori, troviamo spesso dei sintomi molto simili anche nei genitori. Quindi sappiamo che è genetico. Per esempio, sto parlando della dislessia. Sto pensando della dislessia. Altre volte invece un problema posturologico, percettivo, può nascere per una banale distorsione o una caviglia, che è la classica goccia, o un trattamento di una carie in bocca, voglio dire, è un po' banalizzante, ma può capitare, o un paio di occhiali malfatti, un semplice paio di occhiali malfatti, specialmente progressivi, possono essere la goccia che fa uscire l'acqua dal vaso e creare, per esempio, una disfunzione proprio eccettiva, una dispercezione in un soggetto che fino a poco prima stava bene. Ecco, e visto che il dottore ha parlato di dispercezione, cos'è in pratica? Ci vuole un po' spiegare questa... La dispercezione è piuttosto complessa. Allora, Gaget si è reso conto che queste tensioni muscolari anormali provocavano un difetto posturale. Da Cugna si era reso conto che questi difetti posturali sono legati a come la persona si sente nello spazio. Io, con un collega francese, il dottor Patrick Quercia, che è un oculista, abbiamo incominciato a indagare in maniera più approfondita la propria eccezione e ci siamo resi conto che la propria eccezione non si ferma soltanto, come diceva il dottor Berton, a una ripartizione delle tensioni muscolari, ma implica anche altri tipi di disfunzioni, che sono una parolaccia, la localizzazione spaziale, cioè come noi ancora una volta ci sentiamo localizzati nello spazio e ci sarà poi un filmatino che spiega un pochino questo, e poi anche un conflitto che si può generare fra varie funzioni sensoriali. E lo so, è una cosa un po' complessa. Quindi quando noi ci siamo resi conto che un difetto proprio eccettivo, un difetto posturale non era semplicemente legato soltanto alle tensioni muscolari, ma anche a questi due aspetti, ci siamo anche resi conto che semplicemente continuare a chiamare questa esperienza posturologia era troppo limitante. E abbiamo cercato dei termini nell'enciclopedia medica che potessero meglio esprimere il problema. Per il momento parliamo di una disproprio eccezione, però la disproprio eccezione, come si vede nella diapositiva, ha tre faccette e una appunto è il problema tonico, quindi queste assimetrie di tensioni muscolari. L'altro aspetto è questa parolaccia che è la localizzazione spaziale e l'altro ancora è un difetto di percezione dei vari organi di senso che collaborano fra di loro. Noi lo sappiamo perché tutti i nostri pazienti, i pazienti che vengono da me in studio, che siano dislessici, che abbiano problemi di dolori muscolari, tutti presentano lo stesso tipo di problema. E quando noi riusciamo a risolvere e a stabilizzare queste tre funzioni della propria eccezione, normalmente il paziente migliora. Ecco, ma poi dottore, l'atto pratico, dottor Marino, come si attua, diciamo, questo percorso di condivisione, la vostra esperienza con i pazienti? Certo, si attua attraverso delle informazioni sensoriali, significa che diamo al cervello attraverso normalmente tre vie d'ingresso più una privilegiate, che sono la vista, l'appoggio del piede, la bocca, anche se è un tema molto molto delicato e eventualmente veramente una manipolazione delle informazioni propriocettive, articolari, diamo al cervello un nuovo messaggio che va a modificare la percezione precedente, erronea, per fare in modo che un po' alla volta il paziente riprenda una buona funzione percettiva. Se succede questo, in qualche modo spontaneamente il soggetto incomincia a migliorare e a normalizzarsi. Questo miglioramento, dottor Berton, quindi ha riflessi anche indirettamente su altre cose, quindi riflessi positivi, vogliamo approfondire? Assolutamente sì, siamo abituati a pensare come alla postrologia, come il mantenimento della postura, è un termine che sento tutti i giorni usare, mi sembra di capire che il termine postura sia utilizzato per intendere la posizione del corpo nel momento, ma c'è un po' di confusione su questo. Diciamo che se parliamo di posturologia e di cura dei disturbi posturologici possiamo comprendere tre grandi famiglie di pazienti che presentano disfunzioni, pazienti che presentano disfunzioni dell'equilibrio, pazienti che presentano dolori muscolari o articolari e tutto quel gruppo dei disturbi cognitivi, i DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, la dislessia, discalculia, disortografia e tutta quella famiglia ormai molto ben conosciuta, di cui si parla molto se non altro. Accanto a questo vorrei citare spesso quello che si vede, i disturbi della lettura, la scarsa attenzione dei bambini, così come lo scarso rendimento scolastico possono essere in relazione, guarda caso, a una scoliosi, se dico una scoliosi per fare un esempio, un bambino scoliotico può avere una dislessia, noi non andiamo a curare la scoliosi, andiamo a curare il disturbo persettivo, nel tempo, durante il percorso di cura ci accorgeremo che si correggerà sì la scoliosi ma anche il rendimento scolastico del bambino e le sue capacità cognitive, la dislessia per esempio, si attenueranno fino a scomparire, abbiamo avuto casi equatanti con molta soddisfazione e curati. Ma e quindi dottor Marino, qual è la connessione, la relazione, usiamo il termine connessione visto che può essere veramente un termine corretto, che c'è fra dislessia e la posturologia, cioè questa è una cosa affascinante, quindi posso andare alla fonte del… È molto appassionante perché quando Gaget ha determinato questo termine posturologia mai si sarebbe pensato che poi un giorno si sarebbe scoperto che era legata alla dislessia. Sono state le neuroscienze che si sono sviluppate nell'ultimo decennio, vorrei dire, che spiegano molto bene questo. E ancora una volta noi crediamo che sia la propria eccezione, ancora una volta questo strano meccanismo, la propria eccezione, che regola tutto questo. Perché, come diceva il dottor Berton, un paziente che ha una postura non corretta, molto spesso può presentare anche dei disturbi cognitivi perché l'origine del problema è lo stesso, alla propria eccezione. Come abbiamo visto nel triangolo, potrà essere un paziente che ha maggiori, magari da me viene un piccolino di sei anni, che ha dei dolori alla schiena già a sei anni, pazzesco, è incredibile pensare che un bambino a sei anni possa avere marea di schiena. Oppure da me può essere un bambino che viene perché ha la dislessia, però quando noi facciamo compilare un questionario specifico, noi vediamo che sempre questi bambini presentano dei sintomi misti delle tre situazioni. Prego dottor Berton. Mi sia permesso di aggiungere soltanto che in questo caso abbiamo parlato di scoliosi di dislessia. La scoliosi, nel caso trattato in esame, dobbiamo non considerarla come una patologia vera e propria, ma come l'espressione di un sintomo, di una patologia che sta più nascosta. Quindi andare a curare la scoliosi fine a se stessa sarebbe un insuccesso. E vorrei che tu ricordassi, Cristian, che occorre sempre comunque una diagnosi differente. Assolutamente sì, un aspetto molto importante è quello di distinguere la scoliosi strutturata, cioè la scoliosi con deformazione ossea ormai consolidata, da quello che è l'atteggiamento scoliotico. Tipico dei nostri bambini in età scolare, dove sentiamo spesso parlare di scoliosi, in realtà il termine giusto che dovremmo usare è atteggiamento scoliotico, che è un atteggiamento dei muscoli contratti asimmetricamente a destra e a sinistra che portano a una scoliosi visibile. L'atteggiamento scoliotico si presta molto bene a un trattamento posturologico, una scoliosi strutturata, strutturata intendo con deformazione vertebrale, quindi un caso non tipico dei bambini dai 6 ai 12 anni, ma più tipico dell'età adulta, a quel punto non dico dobbiamo alzare bandiera bianca, ma dobbiamo fare diagnosi differenziale, capire fino a dove possiamo arrivare con la posturologia e per questo se non riusciamo ad andare oltre esiste sempre l'ortopedia e le discipline finora portate avanti. Quindi massima collaborazione con gli altri specialisti. Assolutamente, la posturgia è qualcosa che si affianca in realtà alla medicina tradizionale, non vuole mettere in un secondo piano la medicina tradizionale, però credo che il giorno d'oggi abbiamo le basi sufficienti per poter dire questo è un paziente che può essere trattato dal punto di vista posturologico, questo è un paziente che non può essere trattato dal punto di vista posturologico, però occorre una formazione veramente seria per poter fare questo. Purtroppo cosa è successo? Che, come dicevo prima, il termine posturologia è un termine che ha creato tanta confusione, allora è più facile anche per un medico, per un fisioterapista, per l'osteopata stesso, per il podologo, guardare la morfologia e cercare di correggere la morfologia, piuttosto che interpretare i segni di una dispercezione e modificare quelli, perché diventa qualcosa di molto più complesso e bisogna essere preparati per fare questo. E posso dire che da sette anni a questa parte i ragazzi che escono dal master incominciano veramente a diffondere questa cultura della posturologia e io l'ho fatto unicamente per questo, per cercare di vedere se anche in Italia un po' alla volta riusciremo a creare veramente le basi per poter dire sto facendo un trattamento posturologico, perché in questo momento se qualcuno viene da me e mi dice lei so che fa il posturologo, io dico no, io non faccio il posturologo, io faccio il medico e che cerca di far star meglio le persone. Bene, Dottor Marino, è stato molto esaustivo, sicuramente argomentazioni queste che meritano un approfondimento e non mi nascondo di essere stato molto incuriosito e affascinato dalla complessità delle vostre argomentazioni, avremo spero altre occasioni di approfondimento. Allora noi chiudiamo qui, ringraziamo per il momento il Dottor Cristian Bertone, medico ortopedico e il Dottor Alfredo Marino, medico ortodontista. Grazie di essere stati qui con noi a Salute Medicina. Grazie.